Intanto questa mattina si è parlato proprio di scuole e il rischio idrogeologico ed è stato presentato a Livorno un progetto messo in campo da INAIL, il Ministero per l'Istruzione e la Regione Toscana. Sentiamo di cosa si tratta in questo servizio di Luca Salvetti. INAIL e il Regione Toscana, Ministero dell'Istruzione e Università degli Studi di Firenze hanno un obiettivo, diffondere la conoscenza, la consapevolezza dei rischi idrogeologici, sfruttare la conoscenza, l'innovazione e l'educazione per sviluppare la cultura della sicurezza geologica nelle scuole. Per questo un incontro a Livorno, dottor Sebastiani, è stato fatto un quadro preciso che riguarda tutta la Regione. Un quadro molto preciso perché qui c'è un progetto che coinvolge 15 scuole e queste 15 scuole verranno appunto monitorate e il tema è particolarmente importante, serio, degno di essere trattato perché non siamo mai pronti di fronte a dissesti di questo tipo e puntualmente purtroppo ogni anno dobbiamo rimarcare queste cose. Quindi siccome abbiamo da una parte sia la vetustà degli edifici, sia la costruzione in zone che magari potevano essere neanche nelle condizioni ideali, abbiamo a cuore la salute di questi ragazzi, è una questione anche di cultura del cittadino perché dobbiamo ormai convivere con la natura rispetto a tutti questi fenomeni e quindi ci sarà un progetto che porterà alla formazione in queste scuole di persone che a loro volta trasmetteranno agli studenti che sarà proprio significativo, sarà un progetto pilota, come ha detto lei benissimo, dato da un'intesa fra l'Inail, regione, MIUR, USR regionale e quindi quanto di meglio possa essere sul territorio. Dottor Giovanni Asaro, il direttore regionale per la Toscana dell'Inail, l'Inail che si è spesa in maniera concreta su questo progetto. Noi dobbiamo pensare che nelle scuole mandiamo lì i nostri figli e ci sono situazioni in cui l'ambiente idrogeologico o le strutture sono assolutamente fatiscenti, ci sono lì i lavoratori all'interno di queste scuole che effettuano un'attività lavorativa. Quindi tutto questo studio messo assieme a collaborazione con l'università, la regione e l'ufficio scolastico regionale consente di poter mettere assieme una serie di informazioni per avviare le politiche di intervento in questi edifici scolastici e aggiornare i documenti di valutazione dei rischi, rendere sensibili gli studenti anche a questo tipo di tematiche e far sì che poi anche nella logica dei finanziamenti che si stanno mettendo in campo da parte governativa e da parte anche dell'istituto che fa investimenti immobiliari nel settore scolastico si possano avere scuole più sicure per i nostri figli.